Direttore Rosato, ieri è arrivato qui al Moscati in emergenza il sindaco di Sturno, la situazione è complicata, quali sono le condizioni del primo cittadino in questo momento? E' una situazione molto grave, io direi gravissima, in sala operatoria ha avuto purtroppo una patologia della orta che si chiama dissezione aortica, che parte dall'arco della orta dove partono i vasi per il cervello e arriva fino al Carrefour, finisce la orta toracica e iniziano le due iliache. Quindi credo che sia una situazione particolarmente delicata, sia stato fatto di tutto perché l'unica possibilità è la chirurgia, in questo caso una chirurgia d'urgenza, però la situazione è molto grave. Il sindaco è da circa 10 ore in sala operatoria, i medici ovviamente stanno facendo di tutto, come si procederà nelle prossime ore? E' niente, dobbiamo vedere come esce dalla sala operatoria, sono due equip che si sono alternate, quindi si è cercato di sostituire la valvola, cercare di mettere un tubo per poter ricostruire la orta che si è rotta e reimboccare le arterie coronarie e naturalmente poi assicurare una perfusione a tutti gli organi, cervello e gli organi splangnici e così via. Si tratta di casi frequenti oppure di interventi particolari? La distensione ortica non è particolarmente rara, particolarmente negli ipertesi, nella orta bicuspide ci sono situazioni quando la orta si allarga, soprattutto la parte ascendente può determinare una rottura e quindi in questo caso la distensione. Quando prima si arriva, naturalmente se non c'è una patologia congenita alla base che si chiama sindrome di Marfan, perché quando c'è la sindrome di Marfan i punti reggono poco, perché c'è una necrosi del tessuto, quindi malgrado si mettono i punti in ogni caso non reggono, quindi si continua a fare sangue. I cittadini di Sturno che sperano che il sindaco si riprenda, che cosa si può dire? In questo caso qua gli uomini possono fare quello che sono abituati a fare, quindi un intervento medico, un intervento chirurgico e naturalmente poi ci affidiamo a chi è più esperto di noi che è il Padre Eterno.